facciamolo così guarda ok allora ed ecco qui con la bellissima stupenda fanciulla da Marte viene direttamente da Marte si si Silvi Lubamba è qui con noi io vengo da Marte ma anche da Venere insomma siamo un po veniamo da tutte le parti del mondo e non solo anche oltre vabbè lasciamo a parlare il suo discorso senti perché sono un po persa comunque carissima Silvi lo sai che tu c'è un grande ammiratore no? si Enzo Franco ma tu eri a Sanremo e non ci siamo incontrati ecco questo è un'improvera grazie di ammiratore sei però so che anche anche a te ti hanno parlato molto bene di Franco assolutamente si e a un di ci sposeremo wow io faccio la paggetta va bene va bene senti Silvi parlaci un pochino di questo questo programma televisivo che stai per iniziare si brave ragazze summer che sarebbe la seconda edizione di brave ragazze invernale e quindi vedrete una Silvi Lubamba in costume da bagno nel suo salotto che sarà installato non so dove sarà questo salotto se a Rimini comunque in una spiaggia basta che questo salotto non vi addormentate però eh no 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 questo salotto sarà in spiaggia io condurrò questo brave ragazze summer le ospiti saranno donne quindi sarà un salotto di donne dove parleremo di tossi e fattualità ma sono donne che appartengono al mondo della noce sono donne impegnate nel sociale nel rendere felici gli uomini cioè no guarda io questo me le guardo bene me le donne del mio salotto saranno tutte donne impiegate nel sociale ah molto sociale molto sociale socialmente parlando con la mente con il corpo con la bocca con tutto con la bocca insomma qualsiasi parte vabbè insomma non andiamo oltre è veramente interessante questo è certo è certo perché la produttrice Valla De Sappio ha deciso comunque di dare spazio a questa categoria veramente interessante perché non ho mai visto cioè ho visto delle insieme teatrali così molto simpatiche che insomma che fanno queste parti sociali come dici te però una trasmissione così per me è la prima volta brava complimenti Silvi oggi che vestiti trovi qui alla Stati Vari? eh vabbè sempre di conduttrice quindi presenterò una svelata e vari concorsi qui Miss Over, Miss Overissima, Miss Europa e poi... e Miss, magari Miss e Miss Silvi e Miss Silvi sì sì e Miss Silvi sono la collega fiorentina come me ecco abbiamo, vieni qui abbiamo questa... vengo in mezzo a voi ciao questa collega che oggi presenterà co-presenterà co-presenterà no, presentiamo assieme sì, insieme non c'è una co-presentatrice siamo tutte e due in sottotitamente delle conduttrici se a caso mai doveste litigare ci sono io che intervengo ma non credo io sono sempre a favore della pace quindi non succederà sicuramente poi Silvia è splendida, è molto disponibile quindi non credo che... grazie di carina, poi ha 51 anni, ha ancora litigare è la prima persona che conosco che dice l'età è l'età a 51 anni comunque tu hai porti per lì ma se vuoi lo posso dire anch'io 47 ma allora a questo punto lo devo dire anch'io per l'età, è l'età, è l'età, è l'età, è l'età perché ridi? perché ridi? infatti sei in mezzo a noi perché sei la più giovane sono la più giovane quindi io devo avere rispetto per voi che sono i più grandi esatto siamo un bel trio la rossa, la bionda e la mora non ci manca niente non manca nulla me ne porto un po' male però me ne porto un po' male però facciamo finta di niente comunque allora ci andiamo a divertire mi raccomando fate buon lavoro grazie così è come sempre e vai qui da Stradivari non è tutto perché ci vediamo più tardi sì più tardi abbiamo appena cominciato ok buon divertimento a tutti ragazzi ciao ciao un saluto vuoi dire una cosetta a Franco che ti aspetta? Franco io ti aspetto mi raccomando seguimi brave ragazze summer magari vieni con le telecamere di Meglio Sud telecamere non la camera che tendi te un bacione a tutti che le aspettatori di Meglio Sud dopo le telecamere in camera oddio questo è troppo forte no lei voleva salutare tutti i telespettatori di Meglio Sud tutti i telespettatori di Meglio Sud un abbraccio e poi tanto ci vediamo anche più tardi no? chi è il nome? chi è il nome tu? Valentina Battini Valentina Battini Toscanaccia Toscanaccia come me Battini con il nome un programma Silvino Silvino Bamba di Silvino la pompa la pompa come la pompa che poi cancella no no io non cancello niente io non cancello niente siamo andando avanti con il decenero allora ci vediamo più tardi ok a dopo ragazzi ciao 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 troppo forte troppo forte troppo forte troppo forte troppo forte